Questa è la casa nostra in crocello, ora vi farò il tour. Entriamo? Dopo ci sono degli armadi, questi qua che sono quasi più... Cioè, dobbiamo aggiungere dei vestiti, ce ne sono altri due. Dopo c'è il bagno, che è un po' piccolo, però c'è la doccia, il gabinetto e il lavandino. Poi c'è questa piccola tv con il telecomando e dopo tutti i cassetti. Dopo qui c'è uno specchio enorme e un letto. Dopo, qua c'è una scrivania, molto bella. Dopo, qui c'è una... appoggia a qualcosa. E lì, c'è, quindi ti puoi tirare giù il letto. Dopo qui c'è un divano, però si può anche trasformare un letto. E dopo c'è il balcone. Eccolo qui, un po' piccolo, ma bello. Ciao! Guardate che meraviglia. È l'ultimo giro dentro. Era... Era... Raccapitolando tutto. Questa qua è la nostra camera. Piccolina, ma bella. Ciao!